Ben tornato Goodyear, ben tornata! Continuiamo nella descrizione del pannello di controllo e da questo momento parliamo di una sezione particolarmente importante dello stesso che ti dà sicurezza non tanto dal punto di vista riferito ad eventuali malware ma quanto alla capacità di avere delle certezze e delle garanzie per poter ripristinare la piena funzionalità del computer, del sistema operativo se qualche problema più o meno grave dal punto di vista software ha colpito il sistema Ti descriverò la funzionalità della creazione di un backup e del ripristino del computer accedendo appunto allo stesso Ma cosa significa? Cos'è un backup? Facciamo un esempio, un esempio abbastanza semplice La ruota di scorta di un'autovettura Cosa rappresenta la ruota di scorta? È una via di uscita da una condizione di disagio dovuta a un malfunzionamento dell'automobile ad esempio una foratura In caso di guasto, se la tua macchina ne è fornita non hai problemi nel senso che ti metti nelle condizioni di poter ripartire con una semplice sostituzione del pneumatico Possiedi quindi già all'interno della tua vettura la via di uscita Ma non è tutto comunque bisognerà pur montare questa ruota Se non sei in grado di eseguire tale operazione da solo o da sola non potrai ripartire e dovrai far uso di qualche soccorritore magari di passaggio che è facilitato naturalmente dalla presenza della ruota di scorta Nell'autovettura senza la quale sarai appietato Nel qual caso non avere una ruota di scorta non solo è un aggravante e quindi ti privi dell'unica via di uscita ma a questo punto non ti resta che chiamare il carroattrezzi per portare l'auto al più vicino gommista ossia lo specialista Ma rapportiamo questo piccolo esempio al nostro caso Se hai una copia di backup del sistema operativo hai la via d'uscita rapida al verificarsi di problemi software Se sei in grado quindi di utilizzare questo file in pochi minuti sarai di nuovo pronto sarai di nuovo pronta a lavorare con il tuo computer altrimenti tale operazione se non sei in grado dovrà eseguirla la persona che ha creato il backup che può essere un tuo amico uno specialista oppure l'azienda che ti ha fornito il computer Non avere neppure la copia di backup comporta la necessità come estrema apotesi di dover formattare il computer il sistema operativo e reinstallarlo ex novo con l'aggiunta di driver programmi e quindi con un elevato dispendio di tempo ed energie e naturalmente ormai sei in grado di eseguire le operazioni di formattazione e reinstallazione in quanto già dalla lezione 50-40 e seguenti e con i rispettivi tutorial puoi aver ottenuto tale informazione Per sintetizzare lo scopo è creare le condizioni di agio per ridurre lo stress i problemi ed i tempi di ritorno all'efficienza del computer questo è il backup ossia un file che viene creato come copia del sistema operativo ma cos'è un backup cosa contiene tecnicamente si realizza un file immagine e possiamo definirlo come un'istantanea della situazione del sistema operativo a quella data ed ora ossia di quando è stato creato in esso verrà memorizzato il sistema operativo per intero gli aggiornamenti dello stesso eseguiti fino a quel momento i driver delle periferiche installate i programmi installati all'interno dello stesso le impostazioni del sistema operativo gli account e quindi anche i profili compresi di eventuali password le redi create i file che vorrai inserire nelle cartelle del sistema operativo come i documenti immagini musica video eccetera e molte molte altre cose quindi come puoi vedere abbastanza corposo subito delle note derivate dalla lista che hai appena visto ebbene non inserire i file personali come documenti foto video eccetera nella copia di backup intendo dire quella del file immagine perché lo renderebbero dannatamente corposo in termini di gigabyte in quanto già al suo interno contiene il sistema operativo particolarmente corposo il backup dei tuoi file personali lo puoi realizzare a parte ma forse il più importante degli effetti collaterali negativi qualora tu inserissi all'interno del file immagine del sistema tutti i tuoi file è che naturalmente verrà un file ancora più corposo ma ciò comporterà un impiego di tempo esageratamente grande nel ripristino dello stesso altra cosa a cui andrai incontro è il fatto che con il passare del tempo le versioni dei programmi installati all'interno del sistema operativo diventeranno naturalmente vedute a causa degli aggiornamenti che verranno rilasciati dalle aziende produttrici e questo peggiorerà quanto maggior tempo trascorrerà e quindi naturalmente saranno tanto maggiori il numero di programmi che dovranno essere riaggiornati una volta ripristinato il computer con il file immagine ammesso che tu li voglia aggiornare naturalmente un artificio potrebbe essere quello di creare due file immagine uno limitato ed un secondo completo mi spiego il primo lo realizzerai subito dopo aver terminato l'installazione del sistema operativo compreso di aggiornamenti rilasciati dalla macrosot fino a quella data naturalmente e di driver dei dispositivi che utilizzerai normalmente nel computer questo backup questo file immagine lo potrai utilizzare come base di partenza valida sempre perenne o meglio fin tanto che tu decidi di non passare ad una nuova versione superiore del sistema operativo o passare a un diverso sistema operativo il secondo file immagine lo creerai dopo aver installato tutti i programmi che normalmente utilizzi per il tuo lavoro quest'ultimo sarà naturalmente più corposo in termini di dimensioni rispetto al primo ma lo utilizzerai se non è passato molto tempo dalla data di creazione anche se ciò naturalmente è relativo al numero di programmi che hanno subito l'aggiornamento come dicevo prima ma come si realizza a questo punto il file immagine la procedura è semplice ed automatizzata accedendo al pannello di controllo troverai la lista delle sezioni ed in particolar modo troverai backup e ripristino dovrai cliccarci sopra e potrai così accedere alla sezione operativa della creazione di backup a questo punto puoi decidere di creare un file immagine del sistema operativo configurare un backup e poter selezionare quindi i dati da salvaguardare all'interno dello stesso questa è la maschera che si presenta potrai come detto creare un file immagine selezionando questo pulsante e si avvierà la procedura di creazione del file immagine al cui interno potrai selezionare la partizione dove salvare il file immagine e anche in questo caso specifico da questo screenshot una nota a margine che ti consiglia di non eseguire una copia del file immagine all'interno della stessa partizione ma è meglio eseguirla su una partizione diversa questa procedura guidata è abbastanza intuitiva e automatizzata potrai decidere anche di memorizzare il file immagine oltre che sul disco rigido sul supporto ottico o su una rete ma la condizione migliore è senz'altro quella di memorizzarlo sul tuo disco rigido dopo averci cliccato il sistema verificherà eventuale spazio disponibile all'interno del tuo computer dove memorizzare il file immagine e ti presenterà una lista dalla quale potrai scegliere come visto dall'immagine precedente infatti come sottolineo avrai la possibilità di selezionare la periferica di memorizzazione e successivamente scegliere anche ciò che vorrai inserire all'interno del file immagine infatti naturalmente potrai anche selezionare altre partizioni da poter inserire nel file immagine ma di norma io in questa sede seleziono soltanto la partizione riservata al sistema operativo e quella dove è presente il sistema operativo dal quale voglio creare il file immagine escluderei le altre partizioni per non rendere troppo corposo il file immagine stesso prosegui cliccando su avanti e successivamente nella schermata riepilogativa troverai le indicazioni di quanto è corposo il backup del file immagine che andrai a creare e ciò che conterrà il file immagine dopo di che clicca su avvia backup e il backup avrà inizio la durata dello stesso può variare in base appunto alla corposità del sistema operativo e alle caratteristiche di performance della macchina ma di norma non impiega che alcune decine di minuti pochissime decine di minuti l'operazione comunque potrà anche essere annullata fin tanto che non è terminata cliccando sul pulsante interrompi backup il file creato avrà questa denominazione windows image backup e lo troverai nella partizione data e scelta proprio con questo nome il sistema avrà creato una cartella al cui interno è contenuto il file immagine che potrai utilizzare per un ripristino ma come puoi utilizzare questo file immagine beh naturalmente grazie a un disco di ripristino infatti la procedura al termine ti notificherà la richiesta di creare un disco di ripristino del sistema operativo non è necessario utilizzare quel momento lo potrai creare tranquillamente cliccando nella sezione di backup ripristino appunto sul pulsante crea un disco di ripristino del sistema quindi lo puoi anche rimandare la cosa che devi ricordarti è che questo disco di ripristino è fondamentale per poter accedere al file immagine creato in quanto il computer verrà avviato grazie a questo disco il quale creerà un ambiente di ripristino e dal quale potrà attingere e prelevare il file immagine per ripristinare tutto il sistema operativo quindi nel caso tu decidessi di creare il disco di ripristino dedicato per la tipologia del sistema operativo acconsenti pure a tale richiesta e inserendo un cd vergine nel masterizzatore è sufficiente un cd non un dvd clicca sul pulsante che ti verrà notificato crea disco in pochissimi minuti verrà creato appunto il disco di ripristino del sistema operativo che utilizzerai come appena detto avviando il computer un'altra possibilità come già detto all'inizio per creare il backup è configurare il backup da questa schermata anziché cliccare su crea immagine del sistema potrai cliccare sul pulsante configura backup in questa sezione potrai personalizzare il backup selezionato e quindi ti consiglio di selezionare l'opzione selezione manuale dal quale potrai scegliere i file che potrai memorizzare all'interno di questo backup dopo averli selezionati clicca pure sul pulsante salva impostazioni per iniziare questa diversa copia di backup puoi anche cambiare le impostazioni di pianificazione del backup stesso verranno innanzitutto memorizzati i dati e si avvierà il processo di creazione del backup anch'esso che durerà pochi minuti puoi come detto variare la pianificazione del backup e ripeterlo anche cilicamente selezionando la frequenza se giornaliera settimanale il giorno e anche l'ora per poter eseguire questo backup in maniera del tutto automatica o fin anche disattivarlo deselezionando il segno di spunta considera però che tanti più backup realizzerai tanto più spazio del disco rigido ti sarà privato e dato che stiamo parlando di diverse decine di gigabyte potrai saturare ben presso il tuo disco rigido soprattutto se all'interno di questo backup inserirai non solo i tuoi dati ma molti backup al cui interno c'è anche il file del sistema operativo già corposo di per sé di volta in volta quindi potrai decidere di eliminare i backup più datati per non saturare il tuo disco come puoi vedere anche in questo caso in base alla partizione selezionata troverai i backup dei file che avrai precedentemente selezionato durante la configurazione del backup come nozione finale rammento che la filosofia migliore nella scelta del supporto dove memorizzare il backup è selezionare un disco rigido se ne hai più di uno un secondo disco rigido alternativo a quello dove è presente il sistema operativo questo per evitare che in caso di rottura del disco rigido dove è presente il sistema operativo tu perda sia la copia originale che la copia di sicurezza altra cosa è sconsigliato anche utilizzare dei supporti ottici per la minore affidabilità rispetto al disco rigido ed eventualmente anche ad una rete quando tu abbia problemi di accedere alla rete durante il ripristino allora andiamo a vedere come creare un file immagine clicca su start e accedi al pannello di controllo successivamente individua il pulsante backup ripristino e cliccaci sopra sulla sinistra troverai il pulsante crea un file immagine di sistema e cliccaci sopra il sistema inizierà a controllare lo spazio disponibile all'interno del tuo computer del tuo disco rigido e ti mostrerà la lista delle partizioni dove memorizzare il file immagine dopo aver scelto clicca pure su avanti avrai mostrato la lista di ciò che conterà il file immagine e la corposità dello stesso dopodiché potrai cliccare su avvia backup per far partire la creazione del file immagine la procedura avrà una durata variabile e dipenderà dalla corposità delle file immagine stesso ma anche dalle caratteristiche della tua macchina naturalmente per ovvie ragioni didattiche accorcerò la durata dello stesso in fase di montaggio terminata la procedura ti verrà notificata la necessità di creare un disco di ripristino qualora tu non l'abbia ancora creato a te decidere se cliccare su sì e avviare tale procedura oppure cliccare su no ed annullare e rimandare al termine cliccando sul pulsante chiudi terminerà il processo di creazione del file immagine andiamo a vedere appunto il file immagine dove è memorizzato avrà come detto la denominazione windows image backup nella partizione data scelta ora andiamo a vedere come configurare un backup sempre da backup e ripristino clicca sul pulsante configura backup dopo una prima analisi del sistema operativo dovrai selezionare dove memorizzare il tuo backup e clicca su avanti dopo di che in questa sezione clicca su una selezione manuale per scegliere i file da includere nel backup deseleziona dalla lista il file immagine e la partizione di sistema e poi vai a scegliere quali file andare a selezionare quindi a includere o a escludere dalla copia di backup che andrai a realizzare fatto ciò clicca pure su avanti e nella schermata successiva avrai il resoconto dopo di che puoi salvare le impostazioni e iniziare la creazione della copia di backup come puoi vedere il backup come si dice in inglese è in progress quindi in corso al termine dello stesso verrà memorizzata la nuova copia di backup dei file che avrai selezionato all'interno della partizione precedentemente scelta da te terminato ciò potrai gestire lo spazio messo a disposizione dall'hard disk e quindi andare a individuare le caratteristiche del file immagine ed eventualmente rimuoverlo cliccando sul pulsante elimina potrai potrai decidere di disattivare la pianificazione della creazione della copia di backup oppure riattivare la stessa a tuo piacere ora andiamo a vedere come prima dove è ubicata la copia di backup che avrai creato e da qui gestirne anche un'eventuale cancellazione per compretezza ti stimolo a visionare le lezioni 83-84 con i rispettivi video tutorial nelle quali ho descritto il significato e i vari tipi di backup che potrai realizzare anche con programmi alternativi a quello già integrato all'interno del sistema operativo Windows 7 nella prossima lezione concluderò la descrizione della sezione di backup ripristino appunto spiegando come avverrà il ripristino del sistema operativo ora un forte saluto ciao a presto da Carlo e dalla prossima a presto a presto